Sai come si chiama questo dipinto e chi l'ha dipinto? Il dipinto si chiama Ritratto di Jean Keffer ed è un ritratto di Fernand Knoff, dipinto nel 1885. Attualmente ospitato ed esposto al J. Paul Carey Museum di Los Angeles. Una Jean Keffer di 5 anni era una figlia dell'amico dell'artista, il pianista Gustave Keffer. Il dipinto era stato programmato per essere esposto all'ES-20, 1885, a Bruxelles. Ma Knoff non era riuscito a finirlo e la mostra ebbe luogo nel 1886. Jean Keffer è raffigurata in piedi su un portico davanti a una porta chiusa con il pollice che afferra il bordo dell'arco mentre si infila la mano nel cappotto. Il ritratto simboleggia la vulnerabilità e l'incertezza del bambino nell'affrontare il mondo esterno. Il messaggio è enfatizzato dalla composizione stessa mentre il corpo di Jean è incorniciato contro la porta a misura di adulto.